Torna il sereno tra le due quarne dopo la tensione delle ultime settimane. Prove di dialogo e di riavvicinamento tra le due amministrazioni che tornano a parlare in maniera concreta dell'ipotesi fusione. La sensazione è che la ventilata ipotesi di fusione tra Quarnasopra e Loreglia in realtà fosse più una provocazione. Da una chiacchierata informale nel corso di una cena torna sull'argomento. Il sindaco di Quarnasopra, Carlo Quaretta, è uscito un comunicato che peraltro un pochino ci ha spiazzato. Credo che fosse più da parte di Loreglia un segnale agli altri paesi della Valle Strona. In realtà questo scenario ha provocato più di qualche mal di pancia anche a Quarnasopra dove sono apparse delle lettere con pesanti insulti nei confronti del sindaco definito vigliacco e codardo. Insulti spiega ancora Quaretta non sono mai piacevoli specialmente se non si sa da chi provengono visto che la lettera era firmata genericamente con i giovani di Quarnasopra. Se qualcuno vuole parlarmi e discutere può farlo telefonandomi visto che il mio numero di telefono è pubblico. Noi ora come consiglio risponderemo formalmente e positivamente alla richiesta del consiglio di Quarnasopra di convocare un'assemblea unitaria delle due Quarne a riprova che il progetto va avanti. La nuova apertura è stata accolta favorevolmente dal primo cittadino di Quarnasopra Paolo Gromme. Sono contento della presa di posizione del consiglio di Quarnasopra. Era quello che aspettavamo e volevamo le sue parole. Intanto in attesa del consiglio unitario il prossimo 8 novembre le associazioni dei due paesi hanno programmato un incontro pubblico alle scuole di Quarnasopra.